PINQ Way il nuovo filo di Cassati Surf Tubertini questo filo è il fratello gemello del Yellow Wave perciò non starò a dilungarmi sul tipo di confezione e di imbobinamento che come vedete è molto largo in modo da preservare bene la qualità del filo questo filo è talmente scorrevole, talmente potente, talmente resistente che noi mettendo il 18 in bobina siamo in grado di tirare qualsiasi preda che possa apparire nei nostri mari tanto qua il fondale tra l'altro è tutta sabbia perciò non c'è nessun tipo di problema ma vi dico che questo filo qua pur essendo un 18 tanto se lo coadiuviamo di shock leader conico c'ha tanta potenza, tutta la potenza che può servire il filo di Cassa Momoi veramente mi rende orgoglioso di essere riuscito a proporre in Italia un filo come questo che è veramente una grande novità per imbobinare i nostri mulinelli da surf il fratello Yellow Wave ha riscosso un successo veramente straordinario e sono certo che anche la versione pink, rosa abbia le stesse potenzialità anche in questo caso è un filo di nostra esclusiva che imbobiniamo noi in azienda e il filo è disponibile in bobine da 300, 600 e 1200 metri perciò qualsiasi sia la nostra esigenza anche con questo filo ce l'abbiamo non ci sono problemi di sorta ci tengo a precisare che i carichi di rottura i diametri e tutto quanto concerne le caratteristiche misurate del filo sono tutti reali e a prova di micrometro perciò sapete bene che se c'è scritto 18 e abbiamo un 18 se c'è scritto nella bobina 14 come in questo caso ne ho prese una a caso è un 14 perciò anche questa secondo me è una caratteristica molto importante per un filo che comunque deve andare in bobina e deve servire per il lancio lungo principalmente per il lancio lungo